e questa è la storia dell'emigrazione siciliana in tunisia si sono comprate una barca è iniziato dal mare da sciacca tutti i familiari una barca grande si sono perfino portati il cane nel 1892 sono andato all'avventura e finisce questo territorio che dei nonni delle nonne l'arbi chiedevano adesso che abbiamo preso l'indipendenza conquistata voi italiani e un solo che ci ha risposto dice voi prima eravate il suo marco noi eravamo la barca e il francese si metteva a cavarlo sopra dice adesso è cambiato tutto adesso state meglio dice sì diceva adesso i francesi sono diventati il suo marco noi siamo la barca e voi lo mettete sopra dice quando per noi italiani non è cambiato niente trattato in questo modo dopo una vita come Dio voleva ecco che vuoi mangiare stasera e lui gli fa maccaroni